E questo video supererà 50 mila mi piace, facciamo la bombiolo bassi sott'acqua, no, non è vero, sono scherzo Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Show Show, oggi mi trovo nell'umile dimora di XMurri Grazie XMurri per non dir così però In compagnia anche di Giampiero Sì, ci sono anch'io Dell'umile Giampiero Dell'umile Giampiero Dell'umile Giampiero Dell'umile Giampiero E oggi facciamo una prova a non ridere con l'acqua E' sempre particolare vedere... Perché lo presentano pure tipo, non lo so, a Guidonia E' vicino Saluta Sto video ragazzi, potete trovarlo benissimo nel 2014 Ma anche nel 2022 Ma quando veniscono le idee, anche nel 2022 In realtà abbiamo registrato altri video sui canali di questi altri Baldi Giovinotti Quindi passate Nel 2014 eravamo Baldi Giovinotti Guarda sono senza capelli e vecchi Guarderemo dei video insieme a voi Divertentissima Però la cosa bella è che noi riempiremo le nostre fauci con dell'acqua Proviamo non ridere Posso dire che questa compilation dura due ore e un minuto La guarderemo tutta Per mezzo, per mezzo c'è il minimo di registrazione Per più estrapolare otto minuti Le cose qualità si fanno così Il giusto per monetizzare E questo video supererà 50.000 mi piace Così poco Facciamo la bombi e lo passi sott'acqua No non è vero Quanto mi piace E torniamo con questi due ragazzi Se ci vedete un po' altici è perché abbiamo appena registrato un video A poco Le muri in cui abbiamo becucchiato Il mio canale sicuramente sono le cose pornografiche Altoniche Alcalismo, droga Ci risociamo, ci risociamo Lasciate un ti piace, supportate il video Ma adesso iniziamo Vai! Ragazzi secondo voi questa cosa qua è più una barca, una bocca o una fregna? Una fregna da mamma Non tantissima perché guarda che un bicchiere interno non è più Lo puoi lasciare nel bicchiere non è che sei obbligato a mettertela tutta in bocca brutta idiota Ok ok Allora una cosa che voi non vedrete o forse si Perché qua sta un po' lontano Questo è un macbook da quanto? 5.000 euro No dai quattro cosa? Quattro sicuri Quindi insomma ragazzi dobbiamo stare attenti che il getto finisca qui e non lì Ormai non lo uso più per montare però sai com'è? Mi potrebbe servire visto che l'ho pagato 4k Ok proviamo a non ridere se c'è Aspetta di un culo se devi sbutare No, riempiamole fauci Sbutare la pianta che così non la donna dire io Cavola pure bro Che schifo Ma ormai quando metto Quando metto la cosa a freddo esce ancora calda E io continuo Come ne fai un cazzo Ok vai allora bevo eh Allora bevo Allora metti in bocca eh 3,2,1 metti in bocca Ecco eh LM 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 E sono ridi Ma puoi ridere dopo 3 secondi Sono ridi da prima Mi stavo già ridi E' veramente abbastanza stupidino Che cosa versi a me che è già Vai rifacciamo, rifacciamo, vai Perché rifacciamo, continuo E' come al golf, chi fa più punti perde Come tu sei uno Poi però sei un coi Mi fa ridere lui Mi fa ridere lui E continua a ridere Ma come che f***a fa ridere per sta cosa Ah io ho riso per questo E fa ridere lui che ride per queste f***ate Fa ridere il contesto Che ha tipo 35 anni E ride come mi Così, vai vai Ho sbattuto il dito, sentite come ha sonato Ha detto Ma sono da bimbo, quello è cascato bimbo Allora scusate, questa non la avrete sentita voi Ma però dobbiamo ridere, cioè che Dice a noi non ridere Bevo, bevo Ma non mi ha lasciato 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 Sì Io però vorrei di cambiare video Non far ridere per un cazzo Ma prima Giampide che vai a cambiare questo protopino Perché si chiude più vicino Tutti gli errori di pronuncia di Joker parte 2 Giocherini ovviamente tiriamo fuori questo qui Perché con un milione e trecento mila views È proprio un caposaldo ormai della comicità italiana Certamente Abbiamo un portierone Quindi secondo me qua troviamo lui Di nuovo un bel portiere Che cacchio ci faccio? Ragazzi è successo quello che ci aspettavamo sarebbe successo Cioè mi ha sgracchiato il Mac Qualche ha sgracchiato Qualche go Vai waterproof il Mac Sì ad oggi sì Sì ad oggi sì Sì Vabbè gli mandiamo una fattura ai Joker Charol Charol Siamo solo un minuto Capito? Basta Cos'è 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 mi e Martial Cos'è mi e Martial Cos'è mi e Martial Cos'è mi Ci vediamo Nani Ci vediamo Nani Allora Nani Ci vediamo Nani Allora Casillas Winklandium Deve essere quello Di nuovo Winklandium Ora inglese difensore centrale Del Manchester United Smalling Vediamoci da inglese Cdc Vediamo che ci dà Del Tottenham Un buon Pierre No vabbè Buono Ci danzosi Tedesco Portiero Ma che cazzo è il Tottenham Qua 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 Non esiste il Tottenham La squadra del Tottenham E lei perché Me amava il Tottenham Richards Non abbiamo niente di buono Buono così Giro Tutta la vita Goulam Ma questo è Modric Ma proprio così Cono dai Modric 87 Modric Così C'è stato scritto Raghi Dice Guardate i meme Quelli normali Non sono di calcio Se facciamo questo Quelle clip Cicciccicciccime Di Ttok Era finita Torime Era posto Che dolore Ma perché Che è Che cazzo è successo Non è quello emotivo Beh ragazzi Abbiamo scatarrato Voi non vedete il contenuto Desta roba Ma è veramente putrita Tutta melmosa Bianchiccia Vabbè Però vi siano divertiti Magari Se questo video Supererà 50.000 Mi piace Lo rifacciamo Ma uno davanti all'altro Così invece di subire danni Il MacBook Ma in 3 Non possiamo farlo Uno davanti all'altro Ringolare Dobbiamo decidere Per l'obiettivo Una GoPro 360 In centro Quindi ragazzi Spero vi sia piaciuto Usciranno altri video Sugli altri canali O ciao Sottolinei Ciao 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 Polla Mala Polla Il passera E indovinate Che cosa piace Ammurri Lo sticchio E indovinate